cosa cosa sono queste capri come si chiamano tattarughe come si chiamano si chiamano si chiamano cuscio grande e cuscio piccolo ma poi il loro nome che hai messo quali sono ecco io ho detto no vanno a fare ancora che dici no io ho detto da mangiare però vogliono uscire non vogliono mangiare noi vediamo un altro po di mangiare ok 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 eh abboccano ma si chiamano una tarta e l'altra ruga? no si chiamano guscio piccolo e guscio grande e come fanno sono uguali? non sono uguali? no il senso è il nome così si ma come le fai a distinguere? eh perché questo è il guscio più spinoso e quella no al guscio un po' piccolo invece quella è più grande e questo è più piccolo? eh questa qui è grande e questo è un po' piccolino sembra figlio però non è figlio però è maschio o femmina o femmina o maschietto? eh questo non lo so vedi vedi come se la mangia quella che sta sopra il guscio? vedi 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 vedi? hop! hopla! si è mangiato qui eh abbiamo messo un po' di piantine va bene per questo il video è terminato cosa devi dire? iscrivetevi al canale poi attivate la campanella che sta vicino alla testa iscriviti e iscrivetevi al canale e mettete un bel like ci vediamo al prossimo video e tu andrà tutto bene